Si preannuncia un weekend a Bolino Nero sulle strade Lecchesi, osservata speciale come sempre la statale 36. La superstrada Binano-Lecco anche quest'anno è senza dubbio nel novero delle strade più trafficate d'Italia. Nel 2019, lo ricordiamo, registrò nei weekend di agosto il record nazionale del passaggio di 68 mila veicoli quotidiani. Quest'anno la tendenza è al ribasso, pur in assenza di dati specifici, nella rete stradale del nord Italia. A luglio si è registrata una flessione del traffico del 5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. L'appello a tutti resta quello di guidare con prudenza nelle prossime ore e di limitare gli spostamenti nella giornata di domenica, che si prevede già di per sé difficile. Al traffico per il rientro delle vacanze si somma un problema che, incrociando le dita, non dovrebbe però avere un impatto clamoroso sulla viabilità locale. Per un mese, a partire dal lunedì 24 agosto, resterà chiuso al traffico in orario notturno l'attraversamento cittadino in direzione di Milano. Il provvedimento è stato reso necessario dal cantiere in programma per l'efficientamento tecnologico della galleria. Dalle 21 alle 6 di ogni giorno feriale, auto e camion in direzione del capoluogo di regione saranno dirottati sulla viabilità locale, quindi sul lugolago cittadino, e potranno rientrare in superstrada prima del ponte Manzoni. Anna si invita quindi a guidare con maggior prudenza del solito, considerato il necessario passaggio sull'asse viabilistico urbano. Per rimanere aggiornati sulle disposizioni e sui cantieri, contattare il numero verde 800 841 148.